Allora, buonasera a tutti, cominciamo, sapete cosa siete venuti a vedere stasera, vero? Allora, oggi parleremo di Wield e Wield OS, Wield è il meccanismo che fa funzionare la lavagna, Wield OS è il sistema operativo ottimizzato per il funzionamento della lavagna. Io vi lascio anche scrivere, sappiate che tutto quanto video e slide troverete caricato in internet quanto prima. Cominciamo da qua. Domande? C'è qualcuno che ha delle domande da fare? Immagino di no, allora ve le faccio io. Prima di tutto, chissà cos'è l'open source e il software libero. Quanti di voi? Ivan non vale. No, sulle mani, chissà abbastanza precisamente di cosa parliamo. Maestra Berta c'è la metà? Ok, quindi siamo metà sì e metà no. Chi mi fa la segretaria e vede più o meno... Non ho neanche presentato oggi. Va bene così. Chissà cos'è GNU Linux, non solo Linux, GNU Linux. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Metà e metà, dai, no. Sessanta, quaranta. Sessanta no. Vuol dire che stasera qualcosa dico, insomma. Chi conosce o usa già la LIM? LIM intesa anche come LIM proprietaria. Sulla mano? Uno, due, tre, quattro. Chi alza la mano? Parliamo di LIM proprietarie, quindi smartboard e via dicendo. Ok. Quattro persone. Quanti insegnanti ci sono in sala? Uno, due, tre, quattro. Puoi metterti anche tu. Certamente può mettersi anche Roberto, non vuole dirlo. Posso dirlo? Oltre ad essere il mio capo, è venuto a vedere la Wild perché potrebbe essere interessato per utilizzarla per i corsi della sicurezza a chi organizza il Giro d'Italia. Quindi se la RAI poi un giorno riprendesse la Wild, magari facendo vedere il Giro d'Italia, ci scappa un telecomando. Bene. E degli insegnanti che ci sono in sala? C'è qualcuno che ha un'azienda che usa delle presentazioni, che usa un blocnotte scartaceo, che usa una whiteboard a pennarello? o nessun altro? Cioè chi è insegnante è insegnante, gli altri nessuno che ha aziende. Perché vi faccio questa domanda? Perché questo può essere il primo sistema. Al momento il computer che sta proiettando questa cosa qui si trova lì. E lì per terra. La sorpresa ve la dico dopo. Io lo sto comandando con questo e con quell'accessorietto lì, che vedete lì. Potrei arrivare fin dove più o meno c'è... No, è che non vedo cosa c'è scritto. Buon, chi sono io non vi interessa. Vi dico solo che io sono partito circa 13 anni fa senza sapere nulla. Da un Commodore 64 mi hanno portato a casa un Pentium 4. Non ne sapevo niente. Dopo due giorni è arrivata una schermata così. No, non era proprio questa la schermata. È un'altra schermata. Eccola qua. Dopo due giorni sono riuscito a piantare il sistema. Ho detto, come? Mi hanno detto che col computer si fa tutto. Io ho 13 anni che non uso computer. No, 8-9 anni sono stato senza. Ma come? E adesso viene fuori questa roba. Vado dal negoziante. Il negoziante mi dice, boh dai dammi qua. Ha utilizzato la parola magica. Riformatiamo. Vabbè, fa tu. Non so cosa stai dicendo. Va bene. Nelle settimane successive è apparso altre 3-4 volte sta schermata qua. E io non... Ho detto, aspetta, c'ho un amico. Si chiama Gaio. Marco Gaierin per gli amici. Gaio, ascoltami. Qua io non ci capisco. Cosa devo fare? Allora lui mi ha detto, potresti usare Linux. Che? No, una roba così. E ho speso, e non mi vergogno di dirlo, nel 2000, 70 euro per comprare OpenSUSE. No, non era OpenSUSE, scusate. Era SUSE forse la 7. Forse era la 7. Con 70 euro alla SME, mi hanno dato, alla SME, a Zoppolo ancora, mi hanno dato due libri, uno da amministratore e uno da utente, erano circa 250... No, era il disastro di pagina, non me lo ricordo. 7 CD e un DVD di installazione. Pian pianino ho cominciato a smanettare con SUSE, ma usavo al 99% Windows. Schermata blu, schermata... Più o meno, non importa. Andavo avanti. Dopo un po' di tempo, sono passato a Clopix, che è stata un'altra distribuzione Linux. Il vantaggio è che prendeva su tutto l'hardware che c'era in giro. E da lì ho cominciato a divertirmi. Così, entrai nel favoloso ed intrigante mondo del software libero. Ma non sapevo che cos'era. Internet andava a 56K, e io, con tutta la lentezza del 56K, sono arrivato qui. Il bello dei progetti OpenSource, anzi, meglio, Floss. Floss è una parolaccia talmente importante per noi di PNLUG che l'abbiamo inserito anche nell'atto costitutivo. Nell'atto costitutivo di PNLUG c'è la parola Floss. Free, libre, open source software. Software libero, assorgente, aperto. Che tutta la comunità può contribuire a piacimento per sfruttare al meglio le quattro libertà che caratterizzano questa filosofia. Non abbiate paura, arriviamo anche alla lavagna. Ma spiegheremo dopo perché sto facendo questi passaggi. Per capire chi c'era dietro ho cominciato a navigare, sempre col 56K, ho trovato prima uno con la faccia da professorino, che è sto tizio qua. Vediamo se arriva. Linus Torvalds. Qualcuno l'ha sentito nominare? Ok. Il secondo, uno poco raccomandabile, ma non so perché mi stava molto simpatico, già di primo occhito, è questo personaggio qua, si chiama Richard Stallman. O Stallman. Ok. Qualcuno immagina perché mi stava simpatico? Allora, Richard Stallman, possiamo abbinarlo alla parola GNU. GNU è un ricorsivo che significa GNU is not unix. Ovvero, GNU is not unix, eccetera, eccetera. Sono quelle cose simpatiche che fanno il programmatore quando vanno in palla, non sanno più cosa fare, allora si inventano i ricorsivi, eccetera, eccetera. Sergio, quello l'avvia in piedi, si è divertito a farci inserire nell'atto costitutivo, che l'atto costitutivo è stato fatto il 21.12.2012 alle 21.12. Così è ricorsivo da una parte e dall'altra. Ok. E questo è Richard Stallman. Dall'altra parte c'è sempre lui, Linus Torvalds. da cui ha preso il nome, che conosciamo tutti, che utilizziamo sempre, Linus. Quello che noi stiamo usando si chiama GNU Linux. Ovvero, perdonatemi i guru che adesso vorrebbero tirarmi qualche frecciata, andiamo via veloci perché siamo qua per la lavagna. E GNU Linux significa, GNU è la filosofia che ci porta all'open source. Unix era un sistema molto solido, ma chiuso. Tipo Windows, tipo il Mac. Non ci si poteva mettere mani dentro neanche con un buon cazzavite. Linus, Linus Torvalds, facendosi la tesi, cercava qualcosa per scrivere la sua tesi. I sistemi che c'erano in giro non li piacevano molto. Ha cominciato a prendere parti di Unix, a metterci un po' mano. La filosofia delle libertà che vedremo adesso insieme al kernel, quindi alle cose divertenti, ai codici che ha compilato Linus, ha portato al sistema che adesso conosciamo tutti che si chiama GNU Linux. Quattro libertà abbiamo. La libertà zero. Possiamo utilizzare il programma per qualsiasi scopo. Io da qualche parte avrei i miei appunti, ma se no vado a memoria. Noi stiamo utilizzando il programma Wield OS. Stiamo utilizzando un sistema operativo a qualsiasi scopo. In questo momento stiamo facendo una presentazione, di là faremo un'altra cosa ancora. Lo decidiamo noi. Questa è la libertà zero. La libertà uno. Studiare il programma e modificarlo. Wield OS, quel sistema operativo lì, è già a il terzo sviluppo di un sistema base che si chiama Debian. Da Debian è stato sviluppato Ubuntu. Da Ubuntu, lo vedremo fra poco, due e tre persone principalmente, poi tutta un'equip dietro, ha sviluppato quello che vedete di là o quello che sta girando qua, che è Wield OS. Wield OS è il terzo sviluppo da Debian a Ubuntu, da Ubuntu a Wield OS. italiano, tutto pacchettizzato in italiano, tutto pronto per il sistema Wield OS. Libertà due, quindi vedete che non sono solo scritte lì, ma poi nella pratica qualcosa succede. Distribuire più copie dello stesso programma. Volevo dirlo dopo, lo dico adesso. quel netbook piccolino lì sta girando in live. Non c'è installato niente, forse c'è installato Windows dentro. Sergio, cosa c'è installato dentro? Xubuntu, ok. Io le ho detto, oggi voglio fare il coraggioso, voglio vedere se riusciamo a fare tutta la presentazione in live. Quando io toglierò la chiavetta, tutto quello che noi abbiamo fatto qua sparirà, a meno che io non lo voglia salvare, registrare, e quella chiavetta lì ve la posso dare a voi. Addirittura io posso registrare la presentazione, la salvo lì e vi do la chiavetta. In questo modo ho usato la libertà due. Distribuisco copie dello stesso programma. È legale? Si può? Lo vediamo dopo. Libertà tre, migliorare il programma e distribuirne i miglioramenti a beneficio della comunità. Wild OS è un esempio praticissimo. È stato preso Ubuntu, non che Ubuntu non andasse bene, però Ubuntu di fatto è sudafricano, tutto in inglese o in lingua aiutami Sergio. No, non è suail, è un'altra lingua sudafricana, non lo ricordo. Ok. Wild OS è tutto italiano perché è stato fatto da italiani, quindi dico qualcosa che qualcuno può capire e qualcuno no, perdonatemi, poi ci spieghiamo. Chi ha bisogno di un sistema per un computer lento o molto leggero come sistema, adesso come adesso, una volta si usava Knopix, che è comunque ancora un valido sistema, adesso si consiglia L-Ubuntu. Wild OS viaggia su L-Ubuntu, quindi è un quarto passaggio. Debian, Ubuntu, Ubuntu, L-Ubuntu, L sta per Lite, leggero, al posto di darvi un dischetto con L-Ubuntu, io consiglio direttamente di darvi Wild OS. C'ha quei bei tastoni, quella bella interfaccia che poi vedremo perché è fatto così, ok, ed è già Lite, ed è pacchettizzato in italiano, quindi non dobbiamo nemmeno scaricarci sempre automaticamente, sempre in maniera gratuita, ma non dobbiamo nemmeno scaricarci i programmi, è già tutto lì, è già tutto in italiano. Scusate, tengo d'occhio l'orologio ogni tanto. Sì, ci stiamo. Le quattro libertà le abbiamo viste. Facciamo un salto nel tempo immediato. Questo personaggio qua, Johnny Lee Chang, è colui che ci ha dato la possibilità iniziale di essere qui. chi ha una console Wii a casa o sa che cos'è? Sapete tutti cos'è. Quello là giù, blu, è questo, è il Wiimote, quello che si usa per giocare con la Wii. Questo signore qua è stato quello che si è divertito a aprirlo e ingegnerizzarlo, cioè vuol dire capire come è fatto, scriverci i codici e dire se io voglio ragionare con lui come posso fare e si è messo a smontarlo. Facciamo un altro salto nel tempo velocissimo, si sono accorti di questa genialata e arriviamo immediatamente a Trento. Scoprite l'intruso. Allora, qua ci sono tre signori, un bambino e un fuori posto ma la foto a mio piacere l'ho messa. Allora, i tre signori sono Massimo Bosetti che purtroppo non c'era in fiera, Pietro Pilloli e Banteo Ruffoni. Fanno parte della Lizza, Laboratorio Innovazione Tecnologica su Porto Prendimento Università di Trento. Bosetti è un insegnante, Ruffoni è un insegnante IAL di matematica, Pilloli è il cosiddetto nerd, cioè quello che smonta il computer che ha il sistema operativo che ci scrive i codici eccetera. Io vedendo le foto sapevo di trovarmi un tizio da centro sociale non ha niente da centro sociale non ha niente da nerd. Lui mi ha detto in maniera molto tranquilla io sono stufo di essere preso da nerd io mi diverto di più a spiegare a una maestra come si apre una cartella e di fatto in fiera si è comportato in questa maniera. Grazie a questi tre signori abbiamo la condivisione del sapere cioè Johnny Lichang ha aperto il Wiimote l'ha messo in rete si sono accorti questi tre tizzi trentini ci hanno fatto tutto il divertimento che sappiamo su Wild OS e hanno condiviso un sapere ho rubato poi non è vero che ho rubato perché mi è stata passata una slide di quelle che Matteo ha presentato in fiera Pordenone e la utilizzo Wild OS Wii come console Wii LD come lavagna digitale OS come operative system sistema operativo per la lavagna digitale con sistema Wii conoscenza io credo che adesso tutti quanti conosciate un po' di più di cosa c'è sotto non sapete ancora nulla della lavagna ma a me al momento non interessa mi interessa che se un giorno decidete di usarla una volta che avete un problema ma non andiate su Google a cercare un pacchetto .exe o un antivirus non c'entra niente stiamo parlando di un'altra cosa avete visto quello di cui stiamo parlando le libertà poterlo scambiare regalare distribuire guardate quei quattro segnalini lì in parte vediamo se riesco a capire dove vado con la freccia creative commons se volete utilizzare queste slide dovete dire che le ho fatte io e qua non è un problema non le potete far pagare e se volete cambiare inserire qualche slide vostro cambiare il progetto eccetera dovete tenere comunque il copyleft non copyright vi lascio la libertà di copia che ho deciso io quindi dovete dire che l'ho fatta io se voi le fate e le scambiate qualcuno dovrà dire che le avete fatte voi dopo che le ho fatte io non potete chiedere soldi e tenete sempre questo tipo di licenza questa è condivisione del sapere il fatto che io adesso conosca un pochino di più di quello che c'è sotto e che lo possa condividere mi porta a essere un pochino più consapevole di che cosa c'è sotto non sono andato né a comprare una licenza Windows né a comprare un bel Mac da 1700 euro con già tutto pronto fighissimo che arreda la casa così come ha detto il mio collega questo ci porta all'emancipazione questo ci porta a essere molto più non serve che lo spieghi l'emancipazione ormai c'è tutto in tre parole ok poi se non ci piace siamo emancipati anche perché possiamo dire non mi piace faccio altro grazie quindi alla condivisione del sapere vediamo come si può costruire una build di base e qualche integrazione cominciamo a fare un salto adesso in maniera molto pratica sono le nove quindi ci stiamo bene dentro come si può tradurre la condivisione del sapere avevo fatto un passaggino quello lì è quello che si chiama DVD classico questi erano in distribuzione sembra se tutto va in porto che gratuitamente o comunque dietro al rimborso a spese verranno distribuiti alle copp trentine il DVD di Wild OS adesso i PC sono molto veloci anche quel netbook lì che mi hai detto che ha un giga di RAM Sergio ok cos'è un Celeron un Pentium ok un Atom un Atom da un giga ok già quello non ha più bisogno del DVD anche perché non ce l'ha il lettore ma viaggia in chiavetta quindi in chiavetta USB è molto più veloce noi adesso stiamo utilizzando un sistema live con chiavetta USB quello che ho detto utilizzo l'IDA il sistema operativo usabile su più PC trasportando gli stessi documenti qua faccio un flash quando una delle possibilità che noi vedremo che noi potremo avere è quella di dire tra un po' mi scade la licenza della Proteus Proteus non mi ricordo c'è una lavagna una delle più Proteus una delle lavagne più famose delle LIM scade la licenza e tra un po' i programmi diventano vecchi o la Smartboard c'è la possibilità di utilizzare Wild OS sulle LIM proprietarie? sì ma non voglio toccare niente perché sai le ho comprate il prezzo del direttore didattico io se faccio danni utilizzi la chiavetta ci scrivi tutto in chiavetta la stacchi il computer non succede niente vogliamo far di più condividiamo quello che abbiamo fatto lo diamo in un'altra chiavetta ai nostri alunni o addirittura usiamo un cloud e i nostri alunni se lo trovano già a casa una cosa intelligente pian pianino potrebbe essere quella che tutti gli alunni con la stessa chiavetta arrivano nel pc della scuola fanno partire da lì scrivono tutto tolgono la chiavetta vanno a casa windows mac quello che è resta lì se proprio non ce la fate buttarlo e lo usate in questa maniera qua tutto legale partendo dalle quattro libertà di cui avevamo parlato dieci minuti fa ribadisco copiabile scambiabile questo l'ho aggiunto io perché faceva rima ma mi piaceva è incredibile cioè ditemi il contrario stiamo ragionando a zero spese sembra che funzioni e possiamo fare tutte queste cose in maniera legale non ti piantare adesso però eccolo qua arriviamo al pratico 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 cosa serve per costruire la wield lo vedete lì ma magari mi alzo Ivan adesso mi ucciderà perché devo staccare il microfono no vabbè dai vediamo cosa serve per far funzionare la wield quindi primo passo adesso parliamo della wield lavagna digitale con sistema ui serve un computer possibilmente io ho scritto con wield OS potete usare debian potete usare ubuntu potete usare qualsiasi sistema linux ve la dico piano potete usare anche windows io non ne so niente è tutto legale anche là funziona ci sono i pacchettini da metterci su però dovete sapere che per la pena ieri serve python whiteboard per fare quello che sto facendo io serve weekend eccetera eccetera se avete un pc con wield OS o quantomeno un pc con una chiavetta wield OS c'è già tutto lì non dovete diventare matti a cercare dove andare a prendere la roba se il pc è di poco conto tipo il mio è nuovo ma costa meno di 300 euro il bluetooth non ce l'ha quindi serve una chiavetta che comunichi bluetooth per far che ve lo dico dopo quanto costa ve lo dico dopo serve un wimote no non ho staccato il telefono chiedo scusa anche perché è quello che mi dà la linea internet ok quello lì è una modifica cosa serve ve la dico dopo l'wimote è quello che ho in mano la foto è di quello che anzi no quello lì è già sulla lavagna chions sotto c'è scritto vmarker vi dico dopo cosa serve quindi un pc con sistema operativo wield OS così non diventiamo matti se il pc non ha il bluetooth una chiavetta bluetooth wimote penna IR autocostruita io ho scritto autocostruita perché ormai le si fa con un bianco e un nero come si suol dire le trovate anche in rete le risorse ve le do tutte alla fine noi le chiavette qua ne abbiamo a pacchi e ce le costruiamo IR cosa vuol dire IR se non avete la chiavetta la stessa funzione potete farlo con un accendino perché il fuoco emette dei raggi IR sì lo so il segnale non è precisissimo ma si vede o con un telecomando di casa un ragazzo ok mi chiedeva ma devo farlo non ho la chiavetta intanto farlo col telecomando del papà il telecomando dà dei codici a noi i codici non interessano a noi interessa il segnale IR i codici li interpreterà lui non ci interessano i codici del telecomando provate così videoproiettore il videoproiettore va bene vai in stand by grazie videoproiettore quello che vedete là cavalletto lo vedete lì cavalletto da macchina fotografica fissa tubi da 40 mm cioè per i tubi delle canaline di casa pannello riflettente ecco il pezzo di legno in faesite che vedete lì davanti questa è la struttura base che serve per fare una wield questa è proprio la base qua siamo sulla base portatile perché il cavallettino è portatile perché se salite qua e cominciate a sbattere un pochino mi buttate fuori la calibrazione dopo vi faccio vedere cos'è non importa la ricalibriamo in due secondi qua siamo su una base portatile quella che vi faccio vedere stasera riassumendo come funziona allora funziona così qua vi do la possibilità di chiedermi se non mi sono spiegato bene anzi mi fermo un attimo c'è qualcosa che devo precisare specificare mi avete perso già la seconda slide tutto ok neanche a casa non mi dicono tutto ok di solito tutto ok allora come funziona il pc con il bluetooth dà le immagini all'unica periferica stupida che c'è che è il videoproiettore il videoproiettore è una periferica stupida non fa nient'altro che prendere le immagini del pc e ingrandircele lì o qua non fa altro questo è il videoproiettore il videoproiettore stupido che prende le immagini e le rimanda più in grande proietta sulla lavagna bianca con la mia pennina IR con la mia penna IR comincio a mandare degli impulsi dei segnali dopo magari con calma vi faccio anche giocare nel senso che prendiamo un cellulare schiacciamo e vediamo che c'è un fascio IR voi non lo vedete no sto anche bene questi due led qua stanno mandando un fascio IR in questo momento non li vedete lui si il fascio IR sulla lavagna bianca riflettente ricordatevelo manda un segnale a chi? a Louis Mott Louis Mott è un apparecchietto talmente piccolo ciao Carlo ma intelligentissimo c'ha di tutto qui dentro se abbiamo tempo vi faccio vedere che cosa c'è qui dentro altrimenti ve lo vedete a casa quello che ci serve al momento sono due cose la telecamera e la connessione bluetooth la telecamera interpreta il segnale del fascio IR che io sto muovendo la manda via no non la interpreta nemmeno la riceve e via bluetooth manda il segnale al pc il pc interpreta quello che sta succedendo chiaro? non tanto rifacciamo i passaggi il pc con bluetooth utilizza la periferica stupida videoproiettore per ingrandire l'immagine il videoproiettore manda sulla lavagna bianca l'immagine io con la penna IR sulla lavagna bianca ci gioco un po' questi giochi Louis Mott li legge con la sua telecamerina con il bluetooth li dà al pc vedete che si muove qualcosa? devo partire no parto dopo parto dopo ok? ok? boh lasciamo scarabocchietti listino prezzi perché poi quando si va nelle scuole si parla al professore o si dice buono adesso però fatemi capire che cosa vuol dire a tutta sta roba? computer da gratis a 350 euro no ma un computer ne costa anche mille non mi interessa io vi ho detto che al massimo bastano 350 gratis perché? perché vado a memoria quelli che abbiamo a scuola noi tutti quanti sono gratis arrivati giusti? esatto sono tutte tre donazioni stiamo parlando della lavagna poi abbiamo altri 30 pc donati per l'aula informatica ma i tre per le lavagne sono tutti pc donati configurazione base io non ho voluto andare troppo sul tecnico poi vi do le risorse noi la lavagna base ce l'abbiamo con 500 mega di ram atlon da 1 giga e 8 1 giga e 3 1 giga e 8 40 giga di hard disk è un IBM di 8 anni è un T42 quello fighetto che ci è stato regalato un qualche mese fa ha 2 giga di ram aiutami Alberta 2 giga di ram deve avere un processore da 2 giga e 3 deve avere un sentrino da 2 giga e 3 con quello si viaggia alla grande però già con quell'altro fa la sua porca figura non andate sopra 350 euro quello che io poi faccio là lo faccio con quel pc lì costa meno di 300 euro non c'è più windows perché lo dico sempre saranno stufi di sentirmi mi sono pure fatto rimborsare la licenza da asus quindi ci ho risparmiato 42 euro io ho mandato un po' di scartofia da asus holland e mi hanno ritornato 42 euro quindi con 292 euro vado a memoria io ho un pc di 4 giga di ram 500 giga di hard disk non ha il bluetooth ho dovuto spendere 2 euro dopo lo vediamo e funziona egregiamente è un i3 scusate è un i3 è già un quad core se poi ne volete 8 vi comprate un i7 a 1000 euro sono problemi vostri bluetooth il dongle bluetooth va dai 2 ai 5 euro a 6 già ve lo è una ladrata a 2 lo trovate in fiera ciao videoproiettore da gratis a 350 euro allora gratis è stata un'esagerazione ma perché quante scuole hanno un videoproiettore chiuso nell'armadio che non usano perché o non sanno usare o la lampada è scarica oppure se si usa si litiga eccetera correggetemi se sbaglio Kionsel prima l'abbiamo messo su col videoproiettore che era quasi fermo l'Epson era quasi fermo 350 euro potrei dirvi sopra 300 350 siamo ai lumen minimi siamo al minimo indispensabile voglio essere corretto perché io tanto non vendo non compro niente le limb vengono la gran parte delle limb non tutte le olivette base lasciamo perdere qualche limb base lasciamo perdere la gran parte delle limb hanno un videoproiettore focale corta i focale corta sono quelli che se io metto un proiettore qui a questo livello ho già un'immagine di 4 metri è tutta lente costa quello costa quello io non ve l'ho messo in elenco sono circa 800 dagli 800 euro in su di un focale corta o forse l'ho messo sì ecco l'ho anche messo proiettore focale corta da 800 in su uimot da 15 45 io l'ho scritto mi son pendito averlo scritto l'ho lasciato lì amen allora le cineserie funzionano solo se siete sicuri di quello che state comprando chi mi ha visto in fiera mi ha visto un pochino io che sta roba la uso da diversi mesi in fiera ci ho messo 5 ore a farla funzionare cioè quando serve 5 ore oggi l'ho fatto in 3 minuti basta con me la cina ha chiuso o so come funziona l'uimot da 15 euro preso in fiera se no ne vado a prendere uno da in fiera 39,90 alla smè 44,90 alla media 45,90 43 i prezzi sono quelli 45 euro avete un uimot originale ve li smontate e capite il perché già il rumble che nella lavagna non lo usate cioè quel motorino che lo fa vibrare nell'uimot è grande così nelle cineserie è piccolo così e ci mettono della gomma piuma per farlo star dentro la carcassa che è tutta uguale non parliamo del bluetooth il bluetooth è quello che fa diventare pazzi veramente quindi io tempo da buttare a provare 3000 cinesi ne funzionano 1500 e basta ne prendo uno so che è quello io non so facendo pubblicità alla Wii alla Nintendo in fiera ho comunque tentato di prendere qualche cinese me ne è andato bene uno l'ho comprato ho speso 15 euro ce l'ho fatta ma non comprateli se non potete provarli lì perché magari si allinea bluetooth poi la telecamera fa schifo perché il vetrino è quello che è penna IR da 5 a 10 euro 5 a 10 euro stiamo parlando di autoproduzione ovvero queste le abbiamo prese andando nei negozi qua a Pordenone vai comandare in un negozio normale e i prodotti costano quello se vai in fiera magari o se trovi qualche bell'ordine riesci ad abbattere di tanto la spesa ci sono delle penne IR della Wii Teacher della Proteons eccetera che costano anche 15, 17, 20, 25 euro hanno anche la funzione mouse tasto destro tasto sinistro lo scroll eccetera trovate di tutto dove come lo trovo come posso fare alla fine ci sono tutte le risorse non vi mando a casa senza sapere come fare cavalletto dai 3 a 5 euro quel cavallettino lì quello che costa un po' meno è il fissatubi 20 centesimi in qualsiasi negozio è una cretinata cioè vi ho inserito dentro sì perché se no diventate matti a far star su Luimot perché Luimot una volta deve essere su deve essere fermo come lo faccio star su e scotch di qua e scotch di là fissatubi da diametro 40 agganciato alla vitina del cavallettino e lui non si muove più non cade non c'è scotch sta su sono 20 centesimi di roba ma se non ve lo dico credetemi si diventa mati a capire come farlo star su sto robo sembra fatto opposta perché fa clic e sta su pannello pannello da 10 30 euro qua ho buttato su una cifra più o meno attendibile perché non ho fatto la lavagna qui perché qui non è riflettente avrei potuto tentare ma far figure da chiodi non mi interessa seconda cosa a scuola o quando fate delle proiezioni non avete un pannello così grande cioè vi voglio andare con la penna a scrivere lassù con la scala allora realizziamo una cosa concreta e la cosa concreta è questa questa è un po' piccolino serviva il cavalletto all'altezza un metro più là ma questa è la lavagna che noi abbiamo a scuola al limite un po' più grande quindi stiamo nel pratico nel concreto e questa è la lavagna l'ho anche tagliata se vedi rispetto ai pannelli che abbiamo l'ho un po' tagliata perché non mi serviva oltre che non mi entrava in macchina ma non mi serviva e va bene è così pannello riflettente ma che tipo di pannello? scusa questa è la tagli lui in moto non ha il microfono lui in moto ha oscillatore di tutto guarda anche nella vicenda spaziale dentro ma non ha il microfono questo è un problema e san po' parlo con la penna allora scusate mi sono perso ah si la riflettenza dopo vi do tutta la documentazione per capire cosa riflette e cosa no di base un pannello in face hitter vestito con una patina di carta riflette anche lo stesso monitor del pc riflette anche la tv di casa riflette qualche plasma riflette un po' meno gli LCD tendenzialmente si gli OLED non li ho provati gli LCD sono un po' più fastidiosi ma anche le tv a casa abbastanza funzionano un pannello il muro non riflette bene il muro si mangia il raggio IR il raggio IR io quando scrivo scrivo così questo fascio di luce da qui rimbalza e va viene codificato da lui not il muro non fa questa cosa qua la vernice se lo mangia anche sto cosino qui che si vede benissimo se lo mangia è tutto traforato non ce la fa riflettere il pannello che abbiamo usato in fiera sono quei pannelli polionda mi pare anche se polionda deve essere un marchio procretare ma sono quei pannelli in plastica ondulati se li vedete in sezione sono tutti ondulati sono quelli che usano per i totem fuori per la pubblicità chi è venuto in fiera tutte le pubblicità erano stock polionda noi abbiamo usato quello lì in fiera rifletteva da dio quindi dipende dal materiale che utilizzate da quanto speso avete da quanto spazio avete il polionda pesa un pochino meno quello lì è legno il polionda è un po' più leggero però in classe io preferisco quello lì magari con la plastica il polionda arriva il bambino di prima elementare boom buco la prima penna se ti ricordi i primi test che abbiamo fatto dopo due ore erano finite quindi capire come fissare il led perché i bambini vi spiego dopo se no facciamo confusione staffa per videoproiettore in fase di installazione fissa il videoproiettore deve stare su lì li hanno trovato un incasso bello vi faccio vedere dopo ma il classico videoproiettore che sta su a muro ha bisogno di una staffa o avete qualcuno che lavora in una fabbrica d'acciaio di ferro così o ve la comprate 23 euro in internet ecco Alberta che mi dice la maestra Alberta che mi dice 23 euro in internet quando quattro mesi fa ti ricordi ma possiamo cioè passi avanti non si fidava adesso è lei che va su internet e dice ho trovato questo vai a vedere che roba è cavetteria dai 15 50 euro cavetteria sono tutti i cavetti che vi servono il cavo VGA non è una cosa da poco se il videoproiettore è lì e il computer è qua servono 10 metri 10 metri 15 metri di VGA quando l'ho comprato io 5 anni fa l'ho comprato in Giappone e gli ho dato 25 euro a Pordenone me ne avevano chiesti 120 110 quello che era adesso 15 metri di VGA con 15 20 euro li porti a casa onestissimi schermato una roba buona sì totale da 70 a 950 euro circa perché questo sbalzo lo vedete lassù i due prezzi che influiscono più di tutto sono il videoproiettore e il computer allora un computer una mezza schifezza di uno che deve essere sempre all'ultimo moda e magari vi regala un centrino con 2 giga di RAM andate a offrire la pizza avete guadagnato 300 euro il videoproiettore è già un po' più complicato se avete il videoproiettore se avete il il computer se avete un po' di ingegno 70 forse un po' poco ma con fammi pensare se dico una stupidat con 250 300 euro abbiamo preparato il materiale per circa un 10 10 lavagne tra le scatolette e tutto quanto forse un po' di più un po' di più diciamo che sui 100 euro ci stiamo avendo proiettore e computer se poi volete un focale corta ve l'ho detto prima sono 800 euro solo lì ora scusate guardo l'orario sono le 9.20 domande? problemi? segnalazioni? vado avanti io qua andrei un po' un po' veloce allora noi le abbiamo chiamate magic box questo in internet non l'ho trovato meglio l'ho trovato perché cominciamo a mandarlo in giro noi e quella scatolettina lì che vedete non ho fatto foto forse ce ne sono di là delle foto quella che chiamiamo magic box che è quella che vedete lì quella lì ha una funzione che è quella del presenter cioè per gli ultimi arrivati io il computer ce l'ho la via sto comandando le slide e tutto il resto con l'uimote la telecamera l'uimote legge questi due segnali IR qua della scatolina vmarker vmarker è un altro modello di utilizzo della lavagna non utilizza l'uimote viene collegata direttamente al computer tramite cavo usb i dati passano via usb e si alimenta via usb vado a memoria no forse un alimentatore Sergio ti ricordi forse un alimentatore no forse si alimenta via usb ha una sua pennetta quella scatoletta lì costa intorno ai 150 euro noi preferiamo andare a wimote e farci le scatolette come vogliamo noi ve la spiego più avanti quindi il magic box è fissa con l'alimentatore questa scatolettina qua ha la duplice funzione ha la funzione di alimentare l'uimote e fare la funzione lavagna oppure fare la funzione presente e quindi i raggi non è più la penna che manda i raggi IR al uimote ma sono i raggi IR fermi dalla scatoletta che vengono ricevuti alla penna all'uimote che si muove eccomi qua ok è una funzione diversa con le scatolette che facciamo hanno un interruttore e io decido funzione su alimento l'uimote funziona giù alimento la scatoletta e sparo i raggi ci sono delle teorie che dicono che l'uimote lo posso alimentare forse non vi ho spiegato un passaggio l'uimote una volta che è lassù in alto come lo utilizzate voi se è una postazione fissa cioè se è mobile abbiamo le batterie ha due batterie AA da un volt e mezzo sono tre volt ed è lì ma se è lassù in alto come faccio io devo andare su con la scatola vado con un cavo che parte dalla scatoletta e lo alimento ma quando io parto con la lavagna è un problema tecnico quando parto con la lavagna la lavagna mi chiede la sincronizzazione mi chiede fammi vedere dov'è l'uimote l'uimote è spento tiro sul il gancetto la scatoletta lo alimenta con una modifica vi ricordate quel cavettino che usciva dall'uimote prima? gli abbiamo fatto un ponte sul tastino va immediatamente in ricerca si allinea e si alimenta finito il gioco v marker siamo intorno ai 150 120 150 euro dipende l'ordine come trovate tra scatoletta e uimote siamo sotto i 100 siamo anche sotto se ve la fate da soli state sugli 80 ok? chiaro è l'inconscio che parla l'inconscio allora lo chiedo a voi che presi può avere una cosa simile rispetto lo chiedo magari principalmente a chi già utilizza una lavagna poi ovviamente non potete dirmene tutte perché dovete ancora vedere come funziona giusto? insomma a occhio direi le ombre come difetto il fatto che si scherma passando davanti e quindi bisogna scrivere di lato non è naturale poi ci si abitua e ovviamente come preso il fatto che costa la metà o meno questo rispetto questo rispetto a una l'in proprietaria anche le l'in proprietaria hanno il problema di ombre a meno che non andiamo a prendere quelle da retro o la consegnano quelle vabbè a parte da retro però insomma con la focale con la focale con la focale con la focale non ho più problemi il problema di ombre insomma è raro io le 3-4 lini che ho provate sono rimasto male perché ho detto prima di cominciare a fare il suo progetto simile voglio capire se ne vale la pena quando ho provato le limb che abbiamo nelle scuole ho detto beh cosa cambia aspetto a questa non hanno un focale corto una su 3 avevano un focale corto ecco la differenza più bellina forse è che 2 su 3 hanno il pannello resistivo resistivo è il pannello dei touch dei vecchi touch tipo il Nokia questo 5800 quello che quando schiacci prendono l'impulso quindi se voi schiacciate col ditino sul pannello ok non vi serve la penna andate col ditino già il capacitivo vi serve la penna perché deve dare una corrente elettrica io mi aspettavo veramente per spendere 2.500-3.000 euro mi aspettavo una retro proiezione resistiva allora non ho più problema dell'ombra perché è come una televisione viene proiettata da dietro non ho il problema della penna perché schiaccio ok a questi livelli rispetto alle limb proprietà e base direi che non ha tanto da invidiare come dici tu io ci sono abituato ma sono talmente abituato che se hai fatto caso quando mi muovo mi muovo in questa maniera qua ci ho messo due ore a impararlo perché? perché lui molto deve sempre vedere il raggio IR qualcuno mi dice quindi non posso scrivere nemmeno così perché avere il culo della penna allora mettiamoci un led dietro ci abbiamo pensato sì ma in questo modo l'angolazione è sempre quella se io ci metto un led qua questa sono 45 gradi questi sono 180 ok capite che non ci siamo quindi dobbiamo sempre farvi vedere il led quando il videocorrettore è alto come la scuola allora io posso anche fare questo discorso perché comunque vedete anche se con i miei capelli con la testa io la nascondo ma il videocorrettore lo spara il raggio a lui morto lassù in questo caso no perché sono la testa buona ok e questa è una altri presi altri difetti che secondo voi vengono all'occhio scusate nel caso che sulla voce perché se no uccide io allora nel caso che uno voglia spendere per avere la retroproiezione resistivo comunque il discorso di utilizzare il sistema operativo Windows vale lo stesso cioè uno può prendere solo diciamo tra virgolette l'hardware senza software ti fai ti fai un'indagine interventiva che viene aggiornata su un wiki di Windows OS e lì vedi tutte le compatibilità hardware che già ci sono smartboard e proteons a go go olivetti anche abbastanza ma ce ne sono no può offrire finché vuole se li ha se li ha perché no ecco software libero è per quello che forse mi guardavate strano dicendo ma siamo venuti per la lavagna vi ho fatto un pistolotto di tre quarti d'ora veramente ripetendo anche il talk di Paolo in maniera molto più stringata del presidente di qualche mese fa ci teniamo sempre a capire perché siamo qui cioè noi non vendiamo e non compriamo niente siamo qui ad offrire una conoscenza quindi è giusto capire che cosa c'è dietro e qui c'è software libero quindi dipende che sapevo da uno a tre anni vado a memoria so che qualcuno ha già cominciato a scadere un anno di base qualcuno tre anni io non essendo insegnante non lavorando a scuola sento quello che mi dicono gli altri ma non lo so non lo so non lo so gli aggiornamenti non ecco una cosa mi ha colpito questo sì magari se qualcuno mi può smentire stasera chi ha le lean proprietarie no si chiama notebook il programma che si utilizza di solito con la con la lean proprietaria come si chiama vi ricordate smart note o note o qualcosa no geogebra geogebra è in versione 1 sulle lean proprietarie o 2 forse perfetto sulle lean io sulle lean l'ho visto in versione 1 o 2 in windows è già 4 adesso uscirà la 5 poi te lo aggiorni fai quello che vuoi ok ma già lì un pregio è e sarà sempre software libero perché sarà sempre geogebra si parla che dalla 5 forse non sarà più software libero o quantomeno non tutto sembra non si capisce fino alla 4 sarà sempre software libero rimanete lì fate quello che volete ma fino lì sarà sempre software libero gli aggiornamenti sono gratuiti poi sulla gratuità mi fate perdere 5 minuti sugli aggiornamenti di windows sono gratuiti il costo l'abbiamo visto un attimo fa difetti vi accorgerete che in prima lettura i difetti sono pesano più dei pregi mi sono reso conto l'ho scritto in piccolo ma ho detto no li lascio non è detto che sarà sempre mantenuta quindi aggiornata python whiteboard che è il programmino piccolissimo da 200 kilobyte che fa funzionare la lavagna non serve il sistema operativo basta python 200 kilobyte stava andando come gli altri 4-5 programmi che fanno più o meno le stesse cose pilolli quello che avete visto prima con i dread ok l'ha preso in mano perché si sono accorti di tutta sta roba e l'hanno tirato in qua tanti progetti magari vengono fatti per una teso universitaria a qualcosa poi vengono mollati la non vi abbandono così poi vi spiego come funziona non c'è un installatore pagato dovete arrangiarvi cioè non è che con i 2500 euro della 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 lim qua vi arrangiate qua serve un papà elettricista uno col cacciavite la maestra col che si portava da casa ha detto cosa fai Albert ci ha portato l'abitatore e avanti e l'abbiamo usato tasto dolente non vorrei perdere troppo tempo se no non la finiamo più i contributi dalle pubbliche amministrazioni allo stato attuale sono difficili da ottenere vi racconto un aneddoto successo in al nostro consiglio d'istituto circa un venti giorni fa la regione friuli venezia giulia ha fatto un bando e offriva 5000 euro per al massimo due lim quindi se io riuscivo a comprarmi due lim con 3000 euro 4000 euro 1000 tornavano in regione non è che avendoli risparmiati facevo altro seconda cosa gli insegnanti possono aiutarmi come si chiama il quel mercato elettronico MEPA mercato elettronico della pubblica amministrazione questo qui dentro non c'è neanche il led V-Shay da 24 centesimi non c'è ve li comprate e non passate per il MEPA poi ve la vedete col segretario poi ve la vedete col preside se vi dice facciamo la raccolta di torte li raccogliamo così alcuni computer magari passano per il MEPA e costano 600 euro gli equivalenti non passano per il MEPA si comprano su ebay con 300 ok la segretaria molto molto comprensiva e paziente con noi mi ha detto ma dimmi il tuo negozio no no non ci siamo capiti gli ho fatto io non ho un negozio io non ho nulla e non so neanche dove mandarti ho chiamato quelli di Trento gli ho detto si sta muovendo qualcosa sul MEPA no no non c'è niente non c'è assolutamente niente questo è un difetto potremmo andare avanti a parlarne delle ore andiamo avanti sì se c'è qualcuno di voi che ha voglia di cominciare a aprire qualcosa registrarsi al MEPA e cominciare a vendere tutto già pronto se voi fate una ricerca non come Wild ma come lavagna Interactive Whiteboard in inglese così è stata fuori il mondo c'è roba che gira su Windows che gira su Mac ci sono i programmini c'è di tutto c'è chi si è messo a vendere a fare pen Vmarker è nato così di fatto ha capito anche su quei 5.000 che dici di prima forse forse puoi buttarli dentro magari risparmi sull'hardware però magari puoi tenere una parte di quella fetta come un anno di supporto magari non lo so guarda me l'ha mandato me l'ha mandato a casa non ho metto tutto il fatto può essere non ho letto il bando quindi non ci sono può essere ti compri il supporto per x anni prima di provarla dal vivo in conclusione tutte questo è un pistolotto ma permettetevi perché se no non sarei di piena lunga se no noi tutti quanti non saremmo qua a divertirci tutte le cose che utilizziamo della vita hanno bisogno di essere studiate capite e provate dai lacci delle scarpe come si si allacciano le scarpe all'uso dell'aspire polvere se la vi ho scritto cioè ragazzi bisogna imparare pian pianino come si tiene il cucchiaio come si mangia come si cammina un bambino c'è il pannolone non sa camminare poi pian pianino cresce impara quando nelle scuole questa è una domanda quando nelle scuole vi hanno dato la LIM hanno preteso dei corsi di aggiornamento giusto? sì o no? tutti quanti? cioè chi ha la LIM in mano la LIM proprietaria ha fatto dei corsi obbligatori? ok non capisco perché l'ho scritto troppo in piccolo l'ho scritto in grande ma è troppo piccolo siccome è software libero quindi gratis in questo caso libero è traducibile con free free è sia libero che gratis l'inglese prima di cominciare a sbattersi un pochino a creare l'open source il free software il floss e cercare di estendere un pochino i verbi non ci si riusciva a capire allora c'era un letto che diceva free free as in speech not as a beer cioè è libero come il discorso io e te parliamo ci mandiamo anche a quel paese ma parliamo liberamente ma la birra te la puoi bere liberamente ma te la paghi ok c'era questa differenza in questo caso è tutto software libero ed è pure gratis poi sul gratis ci prendiamo un altro minuto non capisco perché si vogliono evitare i corsi perché non obbligatori non lo studierete non lo capirete e a breve direte che non funziona già visto tanto il software libero comincio ta ta eh ma non funziona c'è un bacco di programma qua c'è ma non si sincronizza eh ma cos'è sta roba è l'emote è un gioco quello lì serve solo per la console già sentito tutto tutto quello che potete dirvi stasera tutto magari no ma un buon 80% l'ho già sentito se vi siete fatti non fatemi dire parlacce i corsi obbligatori per la l'IM perché non possiamo perdere qualche oretta voi pensate che io sia un altro maestro cioè adesso i miei amici di piena lug stanno già ridendo io sono forse mi tengono in piena lug perché sono la testa di ponte fra i nerd programmatori e gli incapaci ecco io sono più verso gli incapaci però ci ho perso diverse ore per capire non mi vergogno a dirlo in fiera dopo mesi che ci stiamo divertendo abbiamo buttato su due domani finiamo la terza wild a Kions abbiamo provato di tutto ci siamo messi a stagnare costruito pen eccetera stavo nel frattempo preparando il talk di questa sera provando divertendomi c'è un microscopio che ci è stato regalato vediamo se stasera possiamo giocare anche con quello in fierza abbiamo messo cinque ore per farla funzionare maledetti cinesi Wiimot ok il problema è sempre dietro l'angolo ci dobbiamo metterli un pochino giocare provare adesso in cinque minuti l'abbiamo messo su stasera ho messo su questa come presenter e quella lì come lavagna però ho qualche io due tre due tre cartacei ecco gli appunti miei che erano qua due tre cartacei io li ho stampati questo è un cartaceo di cinquanta un pagine di open san corré dopo ve lo faccio vedere che è l'equivalente di note che è nell'improprietare quello che un po' fa tutto quando si usa nell'improprietare si usa quel programma questo è open san corré san corré senza cuore ma è un vocabolo francese è stato sviluppato da francesi è stato tradotto da italiani ed è qui questo è il manuale della wild os fino alla versione 220 questo qui è stato iniziato poi era stato un pochino lasciatolina di benticatoio l'ho ripreso in mano io insieme a un altro infatti con le stesse licenze c'è il nome di chi l'ha fatto prima di chi l'ha fatto dopo di chi lo farà domani eccetera eccetera e sono 28 pagine se non mi va di leggere andate ai corsi di però da qualche parte bisogna studiare anche i corsi lì si fanno studiare anche i corsi lì si fanno studiare ma li vi obbligano noi non vi possiamo obbligare al di là della mia battuta in realtà a livello ministeriale ci sono delle indicazioni estremamente rigide verso l'open source con il divieto di spendere soldi per ciò che è licenziato a favore si compra più office in termini come dire se anzi la voce è cosiddetta in termini espliciti non si dovrebbe più comprare microsoft office ma usare ad esempio libra office o open office che sono sostanzialmente equivalenti a livello didattico poi è chiaro che se invece ho un app che mi gira esclusivamente sotto excel allora di ma forse sopra qualche situazione particolare due flash veloci microfono due flash veloci università di Trento e non università scusate provincia autonoma di Trento bando di concorso per 92, 94, 96 una delle tre cifre siamo lì cattedre a tempo indeterminato le piattaforme su cui ci saranno gli esami sono o windows 7 o wild os o open office o libre office cosa manca? non c'è microsoft office non c'è se volete tentare uno dei 96 mi pare posti a tempo indeterminato come insegnante nella provincia autonoma di Trento scaricatevi liberamente libre office perché microsoft non c'è chicca numero due prove invalsi le prove invalsi dell'associazione invalsi del ministero girano esclusivamente su macro proprietari office excel quando abbiamo cominciato a spammarli tra telefonate e mail eccetera all'inizio mandavano i copi e incolla le mail automatiche poi si sono accorti che c'era un po' troppo spam eccetera eccetera adesso le prove invalsi sembrano bloccate una delle frasi più belle è stato è per sicurezza che utilizziamo le macro excel proprietarie la sera le avevano già sportette per far vedere che si poteva fare poi nel forum abbiamo detto abbiamo fatto vedere che si può fare adesso non vediamo le macro sportette troppo facile passiamo piattaforma però da una parte dici open source dall'altra l'invalsi mi dice devi farlo girare lì e a Chions che abbiamo 30 pc con linux e basta in provincia di Trento che hanno solo linux quasi e a Bolzano peggio ancora in conclusione prima di provarla dal vivo 2 giuro il 2 l'ultimo l'ultimo numero consigli e cose da ricordare siete avventurieri e aprir pista di qualcosa di speciale l'ho buttata lì mi piaceva come frase da più che lì c'è un paese meraviglia come Peter Pan ok siamo lì che viaggiamo nella nuvola e ci proviamo avete bisogno di volontari di tempo magari tempo anche nelle lì ma anche nelle altre cose qui avete bisogno di volontari perché nessuno lo pagate per sellarvela e di tempo tutto quello che userete in generale sarà frutto di volontariato e tempo vostro e altrui quindi il software libero è libero nel senso che il sorgente è aperto uno ci può mettere mani e utilizzare le quattro libertà di qui sopra ma non necessariamente gratuito questo significa che se oltre ad essere libero e anche gratis tanto meglio donare di propria spontanea volontà qualche soldino per il mantenimento del programma o più semplicemente perché il programmatore volontario metta insieme il pranzo con la cena è buona pratica wikipedia docet io a mia figlia ho fatto vedere lei le ricerche ormai una google ricerca o quello che è va sempre a puntare su wikipedia qualche soldino ogni tanto glielo mettiamo poi viene fuori su libre office è tutto gratis nessuno vi chiede o meglio nessuno vi obbligherà a spendere ma se ci mettiamo qualche soldino mi viene a sorridere continuando a vedere quel microscopio lì Matteo e Pietro che sono venuti invitati da noi a Trento ok sono venuti il rimborso è stato sotto le spese veramente benzina e autostrada era ben oltre il rimborso è stato ci stiamo dentro basta non si sono accontentati ci hanno regalato pure il microscopio volevano darmene 12 gli ho detto intanto cominciamo con 3 poi vediamo gli è arrivata la donazione di circa 1000 microscopi portatevi via cioè quelli che hanno creato sto ben di dio qua e che nessuno li paga o quantomeno qua è tutto gratis ci hanno pure regalato un microscopio cioè quindi se ogni tanto salta fuori quello che in inglese adesso si utilizza il termine crowdfunding quindi creare una comunità adesso andiamo di là uno dei pacchetti andiamo a vedere uno dei pacchetti là dentro che è quello che serve a far funzionare interattivamente l'aula si chiama Epoptes Epoptes è un termine forse già la lingua è un programma greco creato da un ragazzotto greco per la tesi e abbandonato ce ne erano un paio su cui si stava puntando e-talk o Epoptes e-talk ormai era abbandonato abbiamo fatto un crowdfunding gli abbiamo chiesto se poteva continuare a svilupparcelo abbiamo aperto un conto corrente messo qualche soldino e Epoptes è un programma perfettamente funzionante tra client e server poi vi spiego cosa fare non ve lo faccio vedere perché non abbiamo 30 pc di là questo è quello che sto dicendo con questa slide qui grazie questo ve lo vedete in internet devo ringraziare sono qua anche oggi sanno tutte queste cose ma sono venute a trovarci maestra Alberta e maestra Danarita per averci dato fiducia perché quando arrivi con queste robe qua basta andiamo avanti ecco ringrazio la mia famiglia che non c'è ma per la sopportazione PNLUG perché siamo qua come PNLUG quindi ci ci si può autoringraziare vicepresidente a noi ci piace allora info e collegamenti utili tutte queste cose qua adesso non abbiamo se non mi si è scaricato il cellulare un po' di banda ce l'ho di là lì no tutti questi collegamenti voi puntate con il vostro mouse e sono tutti per te sono tutti link quindi cliccate ve li spiego molto molto velocemente wild.it è il punto di partenza ma da lì salta fuori tutto salta fuori la litsa libera università Trento dell'università di Trento wild.wikispaces.com è una branca di wild e c'è tutto l'wiki per tutta la documentazione come funziona i manuali bla 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 di wild.os cioè del sistema operativo lo trovate sul secondo link il terzo PNLUG.it non serve che lo spieghi ci sono tre progettini costruire la penna IR costruire la magic box e modificare l'emote se voi cliccate lì vengono fuori tre zip sono caricati su un server su un cloud Ubuntu One dentro ci sono dalle 20 alle 40 foto c'è una spiegazione un testo fatto da Fabio che è uno dei genitori di Chions insieme a me se ve li volete fare in casa c'è tutta la spiegazione per farlo rilasciati in licenza Creative Commons quindi se li mandate in giro dovete dire che li abbiamo fatti noi se li cambiate potete dire che li avete fatti voi non potete chiedere soldi per i progetti e se continuate a far girare la roba dovete utilizzare la stessa licenza manuale operativo Wild OS revisione 2 tra poco arriverà la 3 perché è già pronta Wild OS 4 e guida utente OpenSanCore sono le due guide più grosse da dove vi consiglio di partire però come lettura della notte il confronto Wild Lim e come fare la Wild Allora queste due ultimi sono quelli dove sono partito io a capire com'era è roba vecchia che è del 2010 è stata fatta c'è il logo dell'università di Trento cioè praticamente questi tre sviluppatori sono andati in università e gli hanno detto vorremmo fare sta roba l'università gli ha dato l'ok e sono partiti quindi ci sono i prezzi c'è tutto quello che vi ho detto come fare la Wild lì trovate anche le informazioni sulla riflettenza dei pannelli come posizionare il proiettore come metterlo bla 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 il manuale operativo Wild OS è il manuale per l'utilizzo del sistema operativo cosa c'è lì dentro la guida utente OpenSanCore è il programma più grosso in cui si può interagire con la lavagna adesso io questa prima cosa no no non sarei libero grazie Evan della comprensione mi sposto di là domande? sì e dopo Sergio vice segretario il dettore nel senso che ormai non lo faccio più vi darà dei volantini ci sono altri link più datati meno datati non c'è tutta quella roba lì comunque portatevi a casa anche quello lì un promemoria da cui partire eventualmente poi quando vi scaricate le slide cliccando con la pennina questa è la lavagna vi ho già spiegato come funziona vediamo se siamo riusciti a scalibrarla rispondere risponde ancora attiva il rec come? attiva il rec ah ok scusa no ho registrato l'ordesia project scusa eccolo qua non vi dico cosa sto facendo ve lo dico dopo Ivan aiutami qualità video 100 qualità audio 100 avanzate va bene lì prestazione codifica al volo 25 frame compressione 0 subampling fotogramma schermo intero l'audio non ci serve va a recursore mouse abilitato tutto ci siamo possiamo partire? si possiamo partire tac via cosa ho fatto ve lo dico dopo già tutti l'avete capito allora partiamo quasi da 0 grazie grazie allora allora quando si inizia si inizia con questo programmino che si chiama WiMotoLim allora il sistema operativo com'è fatto? volete il menu classico? eccolo qua capite che un menu fatto così è scomodo? quindi un bel menu a tastoni volete la scrivania classica? c'è anche quella? no ho aperto un'altra roba lo vedo di là c'è la scrivania classica questo è il sistema classico per poter essere usato come lavagna devo avere i bei tasti dove andare a puntare subito menu lavagna dentro il menu lavagna che è il primo WiMotoLim WiMotoLim mi fa partire questo che è Python Whiteboard questo programmino da 200 KB di cui vi parlavo prima come parte? adesso rischiamo la scalibriamo lui adesso mi chiede mi dice voglio capire dove stai puntando con la penna tengo il pulsantino schiacciato a una cosa quando sono andato a fare le prime dimostrazioni le prime prove non dimostrazioni volevamo capire se era adatto ai bambini dalla prima alla terza elementare i più scafati in terza già andavano avanti facevano fatica a capire che quando ti muovi devi schiacciare il pulsantino questo può essere rispetto alle capacitive dove magari toccando partono terza quarta e quinta in su dritti nessun pensiero cioè la mente è abbastanza veloce a capire adesso devo scrivere quindi schiaccio il tastino faccio vedere vi ricordate abbiamo parlato prima della posizione tengo questa è la cosa che va fatta con più accuratezza nel senso che se siete accurati adesso poi non soffrite se vi mettete lì vedete sta calibrando lo stesso ma dove sto calibrando qui vedete lì sto il raggio io glielo sto dando il raggio io devo darglielo qui allora lui capisce che il pannello viene gestito entro a questi termini uno due tre quattro questo è il raggio che può vedere il WiMot noi stiamo utilizzando il 19% di quello che la telecamera WiMot può vedere la carica della batteria è al 76% perché ho delle batterie dentro se fosse alimentata non abbiamo problemi non ci interessa configurazione allora io per evitare problemi della fiera poi ho visto che potrei addirittura rischiare al momento vi faccio vedere il sistema poi possiamo rischiare scalibriamo tutto buttiamo via tutto e cominciamo da capo io mi sono già memorizzato due WiMot gli dico cercamelo tac ci ha messo meno di un secondo che già vibrava l'ha trovato gli ho detto aggiungi periferica in questo momento noi stiamo utilizzando la lavagna la lavagna la cosa proprio facilina ma anche troppo anche inutile anche divertente dai non so come chiamarla è Ardesia e questo programmino se Pietro adesso mi vede da Youtube magari dice che cavolo stai dicendo il mio programma no in realtà è abbastanza vero nel senso che Ardesia è il programma che vi faccio vedere adesso mi chiede sal scedi il nome del progetto perché? perché tutto quello che io faccio da questo momento lui me lo salva nel progetto allora qui cominciamo a fare il passaggio sono le 10 dai ancora 20 minuti ce la facciamo ce la fate altri 20 minuti? 2 siete addormentati? stiamo avanti? questo è un passaggio fondamentale tra la lavagna in Ardesia cioè quella nera o la whiteboard col pennarello e questa se dovete ve lo dico francamente se dovete utilizzare questa tecnologia qua per fare questo tornate al pennarello funziona meglio ok? se però quello che glielo ho diciato subito come mi hai fatto fare prima Ivan? come voi glielo diciamo dopo se però questa cosa qua ci utilizzate tutta la potenza che può avere la cosa è ben diversa ve lo dico non so tenere segreti quei 3 secondi che ho impegnato prima che ho chiesto a Ivan se va tutto bene io sto registrando in questo momento tutto quello che faccio qui nel pannello lui mi ha detto tu registra perché così poi io divento meno matto con la videocamera faccio un montaggio bello fatto se voi tutto quello che state facendo i movimenti il cambio di dextro il cambio dello sfondo voglio un colore di sfondo verde ok? bene tutto questa roba qua io sto filmando tutto dopo cliccherò stop e avrò un filmato di tutto quello che sto facendo compreso l'audio da micro compreso l'audio in questo caso l'audio l'ho attivato non me lo ricordo non ti frega tanto che odii la traccia quindi se dovete fare una dimostrazione se dovete fare un corso con i bambini se dovete fare qualsiasi cosa non dovete scrivere su un pannello usate un pennarello se invece vogliamo fare una cosa un po' più divertente registriamo vi ricordate all'inizio che vi ho detto la chiavetta bluetooth la chiavetta usb piuttosto che il cloud piuttosto che l'email volete vedere cosa succede succede questo che quando io spengo Ardesia interessante questo è un piccolo bacchetto qua viene fuori di solito un messaggino non capisco perché non viene vuoi condividere quello che hai fatto in posta elettronica se io gli dico ok parte il programma in posta elettronica inserisco la mail list la lezione che ho fatto è già partita allora comincia ad aver senso quello che stiamo facendo possiamo fare una panoramica veloce veloce non mi interessava si pario dai signore signore ta da da vabbè giochini ok c'è un po' di tutto posso farlo così posso farlo a quadroni posso fare quello che voglio il faretto il faretto ingrandisce non perdiamo tempo su comandi vocali ecco c'è comandi vocali interessante comandi vocali io comincio a darvi a pc apri open senza ancora questa è già la parte dove will do s è molto forte ve la faccio vedere fra un attimo che è la parte sulla disabilità è veramente tanto tanto spinta ci sentivamo in via mail qualche giorno fa con pietro e nonostante la bellezza grafica e la will do s amo la scusate il questo e la will do s 3 già la 4 chi ha visto in chiera degli sfondi molto più carini molto più semplatici eccetera e pietro sta sperimentando la parte per i non mi viene il termine una volta si diceva c'è chi non vedenti non vedenti no ipo vedenti cioè quelli che ci vedono poco eh si tornava quasi a pensare al bianco su nero al contrasto forte ok sulla disabilità si si stanno spingendo tantissimo riconosce grafia voi scrivete fate un piccolo tutorial all'inizio scrivete con la vostra grafia lui riconosce le lettere poi ve le mette dentro parte internet parte internet ci abbiamo sono quasi tutti i collegamenti sono quasi tutti i link ai blog chromium come come browser chat con le video scrivania eccolo qua e pop test client quello di cui vi parlavo c'è il client c'è già il demo e server dentro che cos'è aula informatica voi davanti col pc dietro 10 15 20 30 pc e pop test vi permette di vedere nel vostro monitor tutte le schermate tutte le schermate dei pc arrivano i messaggi in privato tutte queste cose qua se vi ricordate prima col crowdfunding abbiamo risuscitato il suo programmino abbandonato per motivi di tesi e sto greco adesso lo sta mantenendo facebook posta e altri lavorare quelli che vedete con dei collegamenti sono dei dei sottomenu accessibilità vedete che già vi da anche le istruzioni uso la tastiera virtuale ricca di strumenti all'inizio il login non l'avete visto c'è florence se voi volete cominciare a scrivere attaccate la tastiera virtuale ce ne sono di due tipi proviamo facciamo partire eccola qua e ci scriviamo con la tastiera allora noi cosa vi questo è un un triplice modo di lavorare scriverla qua un po' Dio se non hai altro lo fai ok se no uno può usare la penna un bambino si mette la tastiera io ho finito le prese usb tavoletta grafica via usb l'attaccate lì l'insegnante mentre il bambino scrive lì l'insegnante con la pennina costo 25 euro corregge la lavagna dalla scrivania quindi avete l'insegnante che corregge la lavagna questo non ha niente a che fare con la guida ma ci sta un'interoperabilità un'interoperabilità può essere come termine complicato l'insegnante lì un bambino la tastiera lì e l'altro la lavagna qua comandi vocali l'abbiamo visto Dasher non me lo ricordo andiamo avanti aviacam aviacam è il si è lui è il controllo del mouse è il controllo del si del mouse con i comandi con i gesti quasi tutti i pc nuovi hanno la webcam davanti muovete il mouse con la testa ovviamente fate il tutorial all'inizio per farvi lui deve capire dove è la vostra testa se c'è quella di compagnia di bianco non ha senso la vostra testa clic del mouse occhio vino sinistro cambia schermata la bocca che fa così e avanti quindi se uno è senza arti si può fare in questa maniera lettore vocale lettore vocale quello che prende io adesso non ve li posso far vedere a tutti il tempo è quello che è se siete interessati a qualcuno in particolare lo proviamo lettore vocale vi prende un testo ve lo legge semplicemente orca non è un lettore vocale è un lettore di schermo cioè quando non vedente quando uno punta lì dice comandi vocali tasto file modifica cioè tutto quello che sta puntando il mouse lui lo legge riconosce i gesti riconosce la grafia e avanti accessori blocco note calcolatrice cattura schermo cerca file gestore di archivi guarda immagini c'è un po' di tutto mi diverto a farvi vedere il VM GUI non so GUI penso grafico allora tutte queste cose è quello che ha il Wiimote per verificare se un Wiimote funziona voi cliccate ci sono i pulsanti questi sono i sensori di movimento Wiimote Plus ha anche questi tre qua è per vedere se funziona la telecamera questo è per il Nunchuck quello che attaccate il joystick e questi sono altri controller la tavoletta con questo voi verificate non vi serve per la lavagna ma volete testarne uno che non sapete se va a casa lo agganciate e lo controllate telecomando Wii questo è quello telecomando Wii si chiama il demo il programmino si chiama Wii Can ed è quello che ho fatto funzionare sta ancora funzionando lì ok quello presente grafica attenzione tutto quello che vedete qua tranne Inkscape che mi pare di averlo installato io per sì l'abbiamo installato quella sera là tutto quello che vedete è già installato è già pronto una volta che il programma è su fosse anche in live è già lì non dovete installare nient'altro è già lì qua abbiamo di tutto abbiamo il visualizzatore delle foto abbiamo LibreOffice Scribus che è l'impaginatore per fare le riviste l'editor di immagini assimilabile a Photoshop e avanti programmazione oggi ho fatto giocare i miei figli con il Scratch Scratch oltretutto dopo domani c'è un un incontro mondiale di Scratch Scratch addirittura sì dopo domani in Italia ce n'è uno solo ci siamo corti tardi se non si poteva partire una motion locks perché non mi è venuto fuori il gattino eccolo là allora questo è come si chiama what you see is what you get ok quell'acronimo impossibile vedi che l'inglese mi fa pena Roberto lo so ma scudo questa è la via di mezzo fra un programmatore col terminale e un bambino che gioca con l'ego il programmatore col terminale dà un comando scrive delle cose assurde che non mi sono quasi nemmeno dire io un bambino che gioca con l'ego ci mette i mattoncini qua abbiamo le due cose insieme il comando è ruota di 15 gradi vedete che c'è scritto script cioè in maniera testuale è uno script uno script è un comando uno scritto ci prende il mattoncino punta in direzione 90 gradi si aggancia si perfetto si può fare voglio 90 gradi ne voglio 90 a sinistra movimento aspetto non mi piace passa al costume seguente costumi mia figlia oggi ha cominciato la prima cosa che ha fatto gli ha cambiato il costume al gattino ha detto vai a farlo muovere fa qualcosa sto gatto no si è messa a cambiare il costume gli ha messo il panolone e ha fatto quelle robe lì dopo quando voi avete messo insieme tutte queste cose qua se si incastrano io adesso con questa eh si ma non gli ho dato movimento gli ho dato chi si ricorda Ivan? l'hai usato? voi mettete insieme tutte queste cose qua le fate fare al gattino su youtube si trova un video di un bambino di prima elementare che ha creato due assi cartesiani e col mouse voi potete disegnare avete c'è una miria di queste cose con il scratch adesso c'è un gattino lui è partito da zero ha preso un giallo bianco ha creato due assi cartesiani ha creato tutti i colori con tutti questi matoncini qua gli operatori suono il tipo di penne penna su penna giu penna di colore c'è tutto il bambino di prima elementare in questa maniera vi ha creato una lavagnetta dove voi col mouse ci iscrivete quello che volete disegnate fate quello che volete questo è uno strumento basico neanche tanto se poi vi divertite io non so usare allo 00001 300 vi sarete accorti c'è la versione evoluta che permette di creare applicazioni per smartphone di questo ma direi che si c'è 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 un progetto MIT per fare applicazioni per smartphone tramite scratch non solo google ha montuato il codice di scratch ce l'ho dentro l'email non mi ricordo come si chiama e lo trovate anche online per fare questa cosa qua c'è proprio un'applicazione web questo è un modo per far capire ragazzi tu hai parlato di l'obris di smartphone mi trovo l'apple a casa dopo due anni cioè è facile schiacciare i tastini ma cosa c'è sotto cioè noi scarichiamo l'applicazione la usiamo e via questo ci fa capire come si crea l'applicazione giustamente poi se voglio perché non si può sempre andare a crearsi il mondo io non sono programmatore io sono un utilizzatore io non so programmare zero programmiamo in basic come lo 64 sono utilizzatore però ogni tanto capire come si è sotto e come utilizzarlo sì un bambino in prima elementare in terza in quinta in prima media viva Dio posso sperare che uno su cento venga fuori un programmatore perché se no fra dieci anni i computer sono morti in questo modo possono capirlo con le app non so quanto qua si ufficio arrivavamo a quello che si diceva prima tutta la suite di libreoffice qua siamo alla 3 siamo alla 3.6 mi pare Ubuntu adesso c'è la 4 no no Ubuntu di default la 12.04 mette sulla 3.6 la 3.6 io lì su Ubuntu ho messo la 4 perché? perché sono birra parte molto più lentamente della 3 già pacchettizzata ok se poi il sviluppatore magari con la 4 è più veloce c'è dentro tutto c'è il libreoffice il base e il database access ok grazie non mi veniva excel draw non c'è o se non sarebbe paint paint mi hai chiamato paint adesso ti lo forlì tux paint impress che è quello che ho usato lì powerpoint faglielo capire mia figlia che sta lavorando in impress no ma mi ha detto powerpoint si va bene Gaia word e avanti questo sottomale di sistema apprendere posso farlo partire lo conoscete tux paint? si chi ha detto si? le piace? si per i bambini piccoli posso perdere tempo? certo nessuno conosce tux paint allora noi qualche anno fa non mi ricordo se era alberta all'elementare o alle medie sono andati in panico alcuni docenti perché mancava paint alle medie dove paint? dove paint? peccato l'audio è bassissimo forse si ok troppo facile dobbiamo prendere un timbrino scegliamo il timbrino riuscite a sentire un pochino? si si scadiamo gli animaletti prendiamo tux voglio tux dove è? eccolo qua lo voglio più grande lo voglio piccolino lo voglio girare voglio il fondo specchio e avanti qua ci sono tutti i tux vai su magie strumenti strumenti mi sono mai esattamente in scuola la città magica Roberta per favore no 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 dai no 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 per favore ce l'hai dimmi dimmi come si cancella voglio cancellare tutto strumenti dove? in alto a sinistra 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 no volevo cancellare lo schermo annulla annulla no annulla torno indietro di un passaggio nuovo eccolo là via va benissimo no bianca di nuovo apri apri no non salvare li sentite i allora magie quale ti piace? mosaico mosaico aspettate che lo trovo giù calligrafia scuola come uno così difficile granangolo ribalta fiore schiuma dolce ma non lo trovo ma giù ma giù in giù ancora vetro caleido caleido rosso erba ci facciamo un po' di erba ci facciamo un giardino volete ancora paint bom se avete windows andate a cercare i tootspaint ve lo installate non lo dico più ok a me piaceva tantissimo quello che fa tu 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 forse i mattoncini no, ce n'era uno ancora più bello che adesso non lo ricordo va bene muoviti, via questo è bello con l'audio perché ogni timbrino ha la sua voz eccetera eccetera lingue di fatto sono tutti collegamenti a se avete il collegamento web sono tutti collegamenti ai wikishonari piuttosto che vocabolari la professoressa o maestra? maestra? la maestra diceva che era per i bambini piccoli c'è qualcosa anche per i bambini più grandi o per, cominciamo a salire di livello tuxmat no ma geogebra si io non ve lo apro nemmeno perché come lo apro l'unico comando che so è la x per chiudere se volete ve lo apro e poi uso la x per chiudere avete visto che quando ho cliccato viene fuori geogebra? o meglio quando clicco ogni volta c'è il cursore viene fuori il nome? fino alla 2.20 non si capiva se aveva preso il comando perché ogni tanto non capisci se prende il comando c'è una rifrazione c'è la luce del sole attraverso il forum gli avevano detto Pietro servirebbe qualcosa cosa che ci dica che è partito tic riga di codice questo vuol dire che Windows è assolutamente interattivo sul wiki ho il collegamento vediamo se riusciamo a farlo andare sul wiki è stata creata una sezione apposta cosa vorrei avere sul Windows 4 se qualcuno gli dice io vorrei io ad esempio ho chiesto il supporto nativo MTP per i tablet e per i smartphone così se collego tablet o smartphone il tablet soprattutto Android hanno bisogno dell'MTP senza andare a diventare matto coè tacco e prendono direttamente e Matteo ha chiesto il supporto per il quale l'ho installato anzi l'ho installato prima perché ho portato un microscopio ma non l'avevo installato il programmino per fare funzionare il microscopio siccome ovunque va Pietro sì Matteo li regala in giro per l'Italia regaliamo i microscopi mettiamoci sul programmino sono 270 kilobyte abbiamo visto prima installato prima io vi ho detto che ve lo apro e ve lo chiudo perché e questo non lo so cioè veramente non non li conosco devo averlo aperto 3000 collegamenti e queste robe qua sono sia sul collegamento manuale operativo Windows revisione 2 che sul wiki trovate tutte le istruzioni che cos'è e che cosa fa jclick sono altri modi un po' più avanzati vedete che vi ricordo un pochino per programmare per riempire amatoncini capire come funziona l'amministrazione gg compri è di fatto il pannello di controllo per l'insegnante per dire al ragazzino fin dove vuole arrivare è vero non abbiamo fatto vederci compri ah così lo chiamiamo chi ha un volantino degli open talk per favore vicepresidente fa qualcosa quando viene Stefano Morandi giugno giugno 13 13 giugno 13 giugno Stefano Morandi qua un altro nostro socio componente del direttivo di Piedelug userà Stellarium userà il programma Stellarium attaccherà un binocolone impossibile punterà al cielo sperando che quel giorno sia bello e vedremo il cielo e Stellarium interpreterà ci farà vedere cosa stiamo vedendo e bla 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 qui c'è WeDynamic WeDynamic l'hanno usato si trovano su Youtube se cercate WeDynamic e WeDos ci sono alcune scuole ci sono all'ora di ginnastica ci sono praticamente il pendolo il movimento terrestre bla 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 hanno usato quello lì si sono messi il WeMot qui e hanno fatto delle gare di scatto hanno girato hanno fatto delle corse in palestra il WeMot vi ho fatto vedere prima agli oscillatori e tutto quanto ha registrato tutto con WeDynamic hanno fatto vedere quanto veloce ha corso il ragazzo le accelerazioni i rallentamenti i chilometri i metri che è dove va con questo sistema apprendere divertirsi microscopio dov'era? la nocchile chiedo il microscopio se lo vedi lo attacchiamo perché non so l'ho attaccato prima Gucu 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 dobbiamo accenderlo? dai va bene era bellissimo Gcomprì non ve lo attacco adesso cercatevelo Gcomprì è una suite per bambini elementari dentro c'è quello che vi ho fatto vedere è tutto dentro questa suite è creata da un maestro francese tradotto quasi tutto in italiano se avete voglia di trovare qualcosa che non è tradotto mettetevi voi vi mandate le traduzioni e lui le avvita su e c'è dentro tutto c'è dentro Tuxpaint c'è dentro c'è il mod c'è per un momento piccolo piccolo non è così immediato capire l'utilizzo del mouse tasto destro tasto sì sinistro piuttosto che schiacciare due tastini contemporaneamente in maniera base 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 cioè voi spingete la palla al pinguino se il pinguino la riceve contento fa yuhu per spingere la palla con i due tastini dovete cliccare contemporaneamente prima secondo elementare asilo elementare sì magari ma 3-4 anni non è ancora con la tastiera per cui con questo modo qua pian pianino il pinguino è contento lui tac insieme perché se non insieme la palla va fuori campo tutti questi esercizi sono di dentro ci arriva un microscopio questa è tutta roba di sistema tutto quello che poi si vuole andare a divertirsi a mettere i driver driver per windows per tentare di far girare dischetti sotto windows eccetera eccetera per chi conosce LPSP il sistema tu lo conosci molto bene verrai a spiegarci la scuola gestici e pop test quello che vi dicevo prima allora 22-24 a questo punto direi sperimentiamo insieme se volete se avete domande io avrei finito se no ci mettiamo un vetrino nel microscopio vediamo in tempo reale se se riusciamo a farlo andare domande? no prima il microscopio molto rapido sì in una stanza non oscurata quale può essere le aude? accendi tutto per favore allora le prime volte che io ho che io ho provato a casa mia avevo la lavagna con la finestra lavagna qui la finestra di casa a sud mi dava molto più problema il tramonto quindi la finestra qui il tramonto che mi arrivava di riflesso che ha molti raggi rossi piuttosto che l'alba o quantomeno il mezzogiorno cioè il mezzogiorno zero a scuola adesso vi pare un po' meno non mi ricordo l'aula può essere illuminata c'è una lampadina oltretutto senza plafoniera e incandescenza quelle vecchie ho un piacere prendila cioè se vogliamo poco diventare mati diventiamo mati ma la abbiamo anche dimenticata ha anche dimenticato accendere hai acceso tutto Ivan? no attacca lì attacca tutto ok? bo proviamo a fare la cosa più naturale che ci viene il colore dello sfondo nero adesso adesso uso una penna leggera con l'inchiostro giallo adesso provo a scrivere alzo ci metto un pochino il correttore sul tondo voglio farci un bel sole e me lo coraggio il correttore lo metto sulle rette cerchiamo dei bei raggi arancioni e ci fa eccolo qua questo potrebbe essere torniamo indietro facciamo finta o forse ok o forse ho tenuto schiacciato la penna ecco da questa parte da questa parte potrebbe darvi qualche problemino va bene un'installazione fissa prima di fissare fissero ovunque e tirare cavi e passatubi eccetera sbattetela lì accendete tutto provatela a mezzogiorno alla sera le condizioni devono essere critiche perché? perché quando fate la calibrazione tutto quanto a volte ecco adesso non viene fuori un massaggio vuoi condividere il tuo lavoro attraverso la posta elettronica? no a nulla via sparisci sì questo è il ramo magari andiamo a recuperarlo e volevo farvelo vedere da qui eccolo a volte o qui no o qui o là finceppa finceppa non va allora lo sposto è di 10 cm cioè quando adesso è mobile chi se ne frega a me è andata dritta al primo colpo l'ho messa lì perché forse riuscivate a vedere tutti ok se è fissa provate provate in tutte le condizioni in maniera tale che quando è fissa poi è fissa si può provare anche a ridurre le dimensioni della calibrazione in maniera tale che proviamo adesso dobbiamo andare a pieno schermo ricalibriamo proviamo e se non tutto non hai ancora un po' di fa un 2000 watt da puntare non vuoi che vieni col cellulare uno due troppa grazie oggi mi restituisce quello che ho detto in fine basta qua torno a funzionare altro distanza minima o massima del teorica 5 metri non andarmi sopra i 4 3-4 teoricamente il pannello che hai visto prima teorica massima sono 5 metri della telecamera volete stendere volete buttare su altra roba buttate su preferenze aggiornano gestisce i pacchetti grazie Giovanni gestore i pacchetti cosa non di poco conto uno dei motivi posso dire un po' che ria alle 10 e mezza dai uno dei motivi per cui al momento ancora virus su linux no è la gestione degli utenti la gestione dei permessi io ho chiesto semplicemente di installarmi un pacchettino io sono un amministratore di questo sistema sono io me lo sta chiedendo di nuovo poi come funziona non è adesso da spiegarvelo vi ricordate la penultima slide i corsi capire su linux non c'è c d e f c'è la root c'è la om cambia un pochino ok non ho tanta roba lo capite in un'ora però lo capite lo dovete capire se non lo sapete dove c'è non trovo più il mio disco d non c'è d e su media l'ha montato da un'altra parte lì in realtà è più semplice a pensarci in realtà è più semplice perché è un albero capovolto dall'albero si estendono tutte le direttore di tutti i eramenti tutto lì a me piace così contento Sergio a me piace ancora di più la Dash si chiama di Ubuntu io qua cerco una qualsiasi roba cerco ieri è venuto tuo figlio a casa mia Mauro non me trovo non son buon dovevo installare volevo installarsi su Ubuntu volevo installarsi BitTorrent non voglio sapere qualcosa ok l'ha fatto si è installato BitTorrent ma chi ti ha detto di andare su Google a cercare BitTorrent cerca Torrent Vroomt e scegli ok cerca vediamo se faccio una figuraccia o se c'è qualcosa dentro ma c'era già Transmission c'era già Transmission infatti su Ubuntu su Ubuntu e anche qui no qui no l'avete visto prima prova a scrollare vedi no mi parli sicuro ci sono i torrent legali e il torrent serve per scaricarci veloce al mente non è da installare non è da installare non è da installare no però c'è l'ultimo c'è un coso verde Debian Debian stesso allora non si pensi che era la pena si io ho cercato io ho scritto Torrent il programma il programma torrent non esiste si esiste BitTorrent ma il programma torrent non esiste ci hanno inserito una parolina un tag all'interno di una ricerca e ha trovato tutto quello che dentro c'è una parolina torrent alcuni pacchetti li vedete così bianchi cosa vuol dire? che sono pacchetti buttati lì dalla comunità io sono bravo a programmare ci ho buttato dentro un pacchettino Buonanotte questi col simbolino di Ubuntu ricordate il passaggio di prima Debian Ubuntu L Ubuntu Wild OS Wild OS usa i pacchetti di Ubuntu quelli col col circoletto col logo di Ubuntu sono quelli che se mettete quelli salvo che non venga una guerra termonucleare funziona perché è canonica la società che l'ha creata e chi gli ha dato la mano canonica alle sviluppatorie hanno verificato che questo funziona volete provare altro? provate un po' come le app per Android quelle buttate lì no magari la me la marcia come la chiamo io invece c'è le app certificate e quelle vanno poi non è sempre vero che vanno neanche quelle ma gran parte sì vanno vanno primo colpo buonanotte non andate a diventare armati c'è già tutto qui c'è già tutto una cosa importante che specialmente nelle scuole scusate puoi spegnere due luci aspetta che finisco no no che nelle scuole c'è la classica paura della maestra che non vado a mettere le mani sul computer perché dopo non funziona ho la moroccia che è maestra quindi mi aggiorna quotidianamente il fatto che si possa installare nella chiavetta ogni maestra arriva con la sua chiavetta e fa i danni sulla sua chiavetta e quindi il computer diventa semplicemente una macchina cioè uno strumento e oltretutto con Will Docks nel famoso computer tenuto sotto chiave in segreteria tieni il sorgente pulito che se la maestra fa può succedere un cataclismo una chiavetta ci va ci ha di nuovo il sorgente pulito dopo ognuno si rimette il necessario ecco e così ogni maestra si va a calibrare il sistema sulle proprie esigenze inutile che quella di matematica abbia i programmi di quella di di italiano o di geografia quindi si possono fare cose però bisogna investire tempo quello allora io adesso avrei anche fatto partire GUBCDU GUBCDU è quello che dovrebbe farmi funzionare il devo scegliere il dispositivo devo scegliere il dispositivo punto vai sul video sulla seconda scheda no non è qua lì c'è il dispositivo bravo grazie 10 e mezzo per tutto via allora c'è lo vedo già vedo già il refresh ok chi ha un buono sennò prendiamo un vetrino vediamo meglio il vetrino l'ho trovato anche con il sedino che avevamo trovato non era meglio il vetrino ovvio preferenza sui vetrini tu ti conosci tutto allora 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 tessuti vuoi? perché era bello anche ho nei b-leg la zampetta dell'app il tocco dei miele vediamo allora lo mettiamo qua attenzione vedete che io posso farlo da qui o posso farlo anche da qua capiamoci mi viene pratico farlo da lì posso scegliere l'illuminatore allora in questo momento io li ho acceso aspettate che faccio confusione devo anche averlo scalicato Ivan la pagherai per questo allora eccolo qua io li ho acceso l'illuminatore sopra ma per dover controllo immagine eccolo qua per i vetrini forse è meglio l'illuminatore sotto no 200x non mai più ok allora ci capiamo allora qua siamo un 10x vediamo se possiamo azzardare eccolo qua questa è la zampetta cerchiamo un po' di fuoco ok e adesso andiamo a regolarci i controlli i controlli video che sono la saturazione si 6 mezzo al fascio vediamo la frequenza 60 60 forse erano 50 lo dicevo ai bambini l'altro giorno non è che deve venire al primo colpo cioè gli scienziati ci mettono degli anni per scoprire una robina ma perché perché comunque dovete dirgli a quella roba stupida lì perché non è nient'altro che una lente con una luce dovete dirgli devi metterti a fuoco voglio la luce sopra non sotto cioè devo decidere io come adesso l'illuminatore sopra a lei ti com'è girare di lato sotto vi sta mostrando l'immagine ti com'è girare il pc devo andare spento il cervello mezzo a fare ok ad esempio si vede molto meglio forse con l'illuminatore da sopra che da sotto però poi vi vi gestite con tutti gli altri controlli saturazione controllo del bianco qua c'è da prendersi un pochino questi sono i questi qua sotto sono i peletti della zampetta dell'ape ce n'era uno bello bello che era il papiro mi pare che fosse non ce lo vedo sponge la spugna no peli di cane anzi qua mette cappelli a dire il vero hand made paper niente da CSI eh niente da CSI ma potrebbe dire pugnalarti domani in ufficio se non mi dai ferri e poi vediamo col microscopio se vuoi l'altro chi la ferri pugnala l'altro eccolo qua questo è il papiro questa è una carta papiro azzardiamo qua adesso stiamo giocando forse non è nemmeno tanto l'ora di giocare gestiamo il fuoco qua siamo un ingrandimento di 60 non voglio neanche pensare boh posso provare 200 ma eccolo qua siamo un 200% quello lì è un apparecchio che presumo che abbia più di 10 anni perché ha i driver per Windows 8 su 98 ho detto Windows 8 ho i refusi ancora del sistema che era qua la prima volta driver 98 il dischetto installazione io l'ho portato facciamo il figo stasera portiamo il microscopio arrivo non ho messo il programma 2 secondi 272 kilobyte di programma eccolo là questo è il software quindi se per Windows 98 lo lì su Windows attuale non lo fai più girare perché il driver non lo trovi più sicuramente quindi dovresti buttarlo via se avessi Windows invece con Linux lo puoi usare se qualcuno che ha Windows 98 vi rega il cd ancora è in tono guarda qua eccolo qui sono le 10.41 qua l'allarme suona alle 11.30 ma direi di non arrivare a quello se avete se avete altro se no qualcuno che vuole provare a giocare con la pennina vi rendete conto di come funziona volentieri una domanda hanno implementato doppio clic mi hai già fatto fare le progetti no c'è qualcosa per il doppio clic lo scroll ci stanno ancora lavorando c'è qualcosa c'è qualcosa anche quello che mi hai mandato tu mi pare no quello era per l'utilizzo della tastiera ieri via mail mi hai mandato no per la registrazione mi hai mandato e l'ho detto all'inizio c'è la no Proteus mi pare che non c'è più c'è la WeTeacher che fa qualcosina e c'era anche un bel progetto e lo trovate qui come fare la WeED qua su quelle 60 pagine ci sono trovate un progetto divertente adesso rischierò di dire una stupidata ma praticamente tra un istituto tecnico e uno di a Cordenons c'è l'istituto d'arte esatto allora il tecnico si è occupato della parte elettronica l'istituto d'arte l'ha disegnata e hanno fatto la pennina tasto destro sinistro scroll e un sorrisetto lo trovate lì dentro quindi WeTeacher lo fa WeTeacher ha una penna che costa 17 27 euro mi pare funziona sempre con WeMot funziona sempre con WeMot è proprio la penna cioè non è il VMarker di cui vi ho parlato prima che ha tutto un altro sistema funziona proprio con WeMot c'è qualche mi veniva in mente così c'è qualche progettore l'Epson sicuramente ma non ricordo il codice un focale corta stanno cominciando a venire fuori prima il focale corta con già vi hanno la penna e il puntatore non vi serve nemmeno più il WeMot attenzione che ci siano i driver per Linux quelli che li fanno li stanno facendo stanno facendo uscire quei driver perché se no è un canessimo della cosa però hanno nasato la cosa che ormai è talmente evidente ci metti una telecamerina a 20 centesimi in fabbrica probabilmente o poco di più ti danno la penna quindi è già tutto sul sul progettore 1.2 1.2 1.3 ho visto i primi sulla raccolta punti della Conad ne ho visto già qualcuno da 17.000 euro che già aveva 17.000 punti scusa che aveva già questa possibilità qua non ho verificato che tipo di driver ci fossero però di solito con il focale corta con quel tipo di strumentazione lì hanno già anche i driver per Linux hai esperienza con tecnologia LED anche per i proiettori non sai niente così come non ho provato neanche le tv le OLED cioè per vedere la tipo quando abbiamo fatto lì erano le prime armi ma quando abbiamo non sono molto più fante adesso quando abbiamo fatto al Kennedy di Noob Day e avevo provato con la tv non mi rispondeva bene c'era una 50 a pollici mi pare il Kennedy volevo provare quella che poi Stefano ha usato per Raspberry meglio così lui ha usato Raspberry io ho usato questa però qualche no LED scusate qualche plasma quelle altre lcd grazie qualche lcd funziona bene le plasma sono un po' più rognosette ma con il proiettore non ho provato lo schermo del portatile funziona con lo schermo del portatile funziona sì con questo sì potrei anche farlo in due secondi e potruggire la cremettitiva ah c'è il freddimentale il monitor si 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 ve l'avevo detto prima ma fra di te no no ma se direi i portatile verso il pubblico ma lì ah perché voglio sì ok sì così vedi sui portatile più dentro che ostento il cervello boh è un po' dai allora vediamo la calibrazione punto abbassano punto abbassano ecco abbassano che magari su videopriettore si vede meglio vedete tutto che poi non è lo schermo che tazza cioè capite gli sto semplicemente dando il raggio però lo schermo riflette riflette il raggio quindi ce la facciamo ad usarlo con un po' di fantasia se possono fare roba stasera normalmente si ciocca poi domani è un buon sistema per i praticisti abbiamo visto vedete questo quello che si vede quindi volendo anche se sei su quella superficie ma avendo l'accortenza di usarlo al contrario è lo stesso problema che ti dicevo prima è che non sei preciso giusto è lo stesso problema che ti dicevo prima dell'angolazione cioè mentre io vediamo se riusciamo a rifarlo in velocità ecco per farlo in velocità allora di solito puntate qui lo mandate in eccolo qua lo mandate in calibrazione cercate con la pennina di puntare il centro il più possibile capite perché anche i 20 centesimi di fissatubi sono importanti perché se no vi voglio ok ci siamo scusa mi hai chiesto tu un attimo fa no dicevo solo il commento che dicevi che lo schermo non è riflettente è quello di usare il pennino al contrario quindi con il led adesso farò scopo sì la risposta l'ho ricalibrato sul monitor come? era calibrato sul monitor no no l'ho ricalibrato no è successa una cosa un po' più interessante scaricata la batteria? no è andato in crash python whiteboard semplicemente è andato in crash il il programma eccolo là allora partiamo dall'inizio a sto punto è andato in crash proprio alle 11.10 è stanco anche lui allora Win Motlin non lo vedete? no ci lascia libera che andare ma non abbiamo una certa età dobbiamo essere fresche per domani beh penso che sia tutto stanco Win Motlin adesso lui chiede di grazie grazie vi vedete ciao grazie sincronizziamo guardate mi appunto il puterore controllo driver grazie connetti eccolo là partito ti ho sentito vibrare si aspetta la luce ti rimanda connetti schiaccia con la penna gira 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 è già partito da solo e ormai si è segnato si schiaccia qua il sink tic si è allineato l'ha trovato vado proprio qui super velocità mi sa che l'ho fatto anche male ok e allora allora eccolo qua no perfetto ubuntu 1 eccolo qua questo è il mio cloud modifiche mi ha aperto un jpeg con incredibile ok qua ci sono tutte le immagini vediamo ho fatto questo eh si ha aperto un jpeg con il sink penso il programma più facile che aveva trovato allora si vede che l'ultima volta l'hai aperto si hai aperto un jpeg guarda probabilmente quando abbiamo materializzato il pinguino ah si lo avevo quella volta là vediamo se lo apre con un programma un po' più onesta eccolo là questi sono schifonamente le foto delle installazioni che abbiamo fatto a scuola questa è la 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 scatoletta che è rovinosamente caduta prima eccola qua questo è l'IBMT42 quello vecchio del fundo del fundo un cavolo e tastino in su tastino in giù alimentazione che va al remote eccolo qua vedete questa è una foto fatta con la macchina fotografica vedete i led accesi qua si vedono premete la la fare qua il pulsantino mettete il cellulare e si vede proprio il fascio eccolo qua lui moto contrario un bel neck funzionante con la modifica il cavetto RCA da qua si vede un po' meglio ma il cavetto scusa che ci avevi accennato e poi non ci hai detto che cosa serviva l'alimentazione l'alimentazione non la batteria ma allora noi abbiamo noi abbiamo fatto così lo vedi da qua e we can we not your mouse with mobile no non ha tanto senso progetti scusa ok costruire penna magic box modificare we not a chi ho rubato la penna grazie qua ci sono le spiegazioni perché abbiamo modificato la penna che cavetto abbiamo usato praticamente abbiamo detto abbiamo fatto ponticello sul tasto sync sotto perché ad esempio il remote plus rispetto al bianco che è il primo modello siamo diventati pazzi adesso vanno in sincrono solo se si chiaccia il tasto sync sotto prima che andiate via tutti 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 mi sono dimenticato con i moduli di feedback io ho intercettato i primi che sono scappati chi diamo agli ultimi due allora vai chi va via se per favore mi compilate il modulo di feedback allora se è firmato o una valenza altrimenti prendiamo così e poi buttiamo via insomma giusto per capire come orientarci e qua c'è c'è tutto c'è l'alimentazione quanto abbiamo usato praticamente abbiamo fatto il ponticello nel tasto sync questo è il cartaceo si vede molto bello da qui una foto eccolo qua aspetta un attimo che apra apri eccolo qua partiamo da qui fa vedere cominciamo a smontarlo cacciavite tac 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 si apre il remote ok eccolo lì dov'è il ponticello qua c'è il tasto sync noi l'abbiamo abbiamo fatto un ponticello attaccato l'RCA femmina questa volta maschio questa volta adesso abbiamo fatto femmina perché abbiamo trovato cavi da 10 metri RCA maschio maschio quindi sul remote va una femmina avanti vedete dove viene fatto il ponte passato il cavetto non si chiude si taglia ed è finito con di sequestro ci sono anche gli altri gli altri progetti per chi vuole già cominciare a mettersi a altrimenti forse più interessante o comunque per cominciare Manu no ah beh mi sono venute le circolari trentine ma quelle non le ho carichiate me le le mando me le le carico le circolari trentine come vi dicevo dell'assunzione dei 96 insegnanti eccetera piuttosto che la richiesta di la cominci autonomo di Trento che consigliava le scuole prima di comprare una lingua sappiate che c'è anche questa azione manuali non vi ho neanche fatto vedere l'opensi ancora ve lo vedete a scuole ve lo vedete a casa Windows manuale operativo Windows si è aperto non lo so ok adesso si è aperto le solite licenze di rilascio a cui ci teniamo tanto prestazione la storia come cominciate quello che vi ho fatto vedere prima alcuni tipi alcune ecco qua le penne quelle fatte e quelle che si trovano in commercio eccola qua le groove questa della proteons spero non la fanno più o meglio la proteons non esiste più eccola qua vediamo se riusciamo a ingrandire come si sposta come si ah era qua questa no ecco lo riusciamo e la penina fatta dalle due scuole che vi dicevo gli occhietti tasto destra e tasto sinistra lo scuolo fatto dalle due scuole in collaborazione quindi la scuola media è la prodotta e guarda c'è scritto qua pagina 125 per gestire il tasto destra e sinistra hanno un codice trasmissione diverso non lo so non ho idea punto importante a tenere presente che la penna deve avere più modabilità acceso spento dovendo sostituire il mouse dovrebbe avere la possibilità di segnare un clic possibilmente anche il bottone destra sinistra basandosi su questo assunto il prodotto è stato realizzato in un'officina elettronica ma poi c'è anche questa collaborazione con la definizione specifica della pena ideale il quadro tipo realizzato hanno permesso di riare un'iniziativa che coinvolge due istituti l'istituto tecnico industriale Marconi e liceo artistico Vittorio di Trento quindi ci hanno messo insieme le conoscenze no 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 avevo parlato di un tecnico e di un artistico basta capito ma cosa sulla penna quella che è tua hai un interventore col quale vai a alimentare dal punto di vista hardware schema elettrico un punto là è sempre là il pacchettino là tac manual modifiche qua no dove lo metto progetti 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 troppo modifiche che ho usato dove l'ho messo lo perso vado a vedere c'è progetti proprio è un interruttore on off allora il cavetto nero va al negativo della batteria e direttamente al led il rosso va a far ponte sull'interruttore il rosso da qui positivo da qui va sul ponte e da qui va al led nient'altro l'ho fatto io che ho fatto il ragione mia dentro lì c'è se lo trovassi non è finito no no dimmi dimmi no ma se il led è un vabbè un senso IR no 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 o ha un chip dentro no si chiama è della Bishai c'è anche un'altra marca che lo fa comunque della Bishai è un TSAL 6400 perché il 6400 ha cento e 160 gradi invece quello lì quello che era lì è un 6200 perché abbiamo detto il posto quello lì rifà quello che fa la UiBar quando giocate con la Nintendo la UiBar ne ha tre allora abbiamo detto se noi ne mettiamo due così con ampio raggio rischiamo di stupidire un po' la telecamera perché vede tanta roba quindi anche i raggi o altra roba abbiamo messo il 6200 che è un po' più stretto ne abbiamo messi due leggermente i sbieghi che vedono quel giusto che può servire abbiamo provato due o tre poi anche la rapida da Corsale ne ho preso uno che non so che roba è e funziona il consigliato dalle schede tecniche è tutto il consigliato è il 6400 in giro così l'ho pagata 2 euro 2 euro 50 e li abbiamo presi in internet a 24 centesimi se vuoi fare la versione aperta della penna è questa versione open l'ho fatto così perché non ci stava perché non sono riuscito a inserirlo perché era troppo stretto è anche bello sì punto però sti qua stabilo boss che sono quelli classici ci metti il tastino il tastino qua davanti e nella parte dietro lo apri e ci metti dentro la batteria con il porta batteria ovviamente all'interno ci ho messo la cola calda praticamente cola caldo in maniera tale che si che si solidifichi e resta lì e il punto è semplice è cambiare la batteria io ho posto della cola caldo sì la prima penna provata con i bambini boom cola caldo sarà la plastica dell'IR due goccine di attack guarda nessun problema ho provato no 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 ho saltato la plastica del quello che avevo provato ma non mi cominciai sì direi dentro un volto un volto e mezzo direttamente questo bio sì sì direttamente quello lì ha una resistenza invece lì abbiamo messo una resistenza perché dopo 30 mila per perché dopo x allora lì ci voleva Fabio che stasera non c'è però dopo x tempo c'era la possibilità di bruciare per cui qua invece no l'ultima domanda non so se così mi era venuto in mente siccome debba riflettere se tu muro foglio trasparente lucido può funzionare l'ho provato noi sempre usiamo quelle lavagne veleda sono delle plastiche non so ho mai provato questo ma avevo pensato a quello perché in classe è la cosa più semplice da utilizzare qualora dovesse funzionare il requisito le batterie alcaline sono necessarie o vanno bene anche le ricaricabili allora le ricaricabili qui no lì no e qui l'ho provato però no no perché mi pare che il diodo abbia 1,3 di minimo 1,3 invece le ricaricabili hanno 1,2 sulla scheda tecnica chiede lo vedevo proprio oggi perché volevo fare un ordine hanno 1,3 di minimo quella volta che ho provato io con un led smontato da un telecomando andava però era il led smontato da telecomando quindi dipende sulla specifica tecnica di questo poi magari è da provare magari ti funziona e buonanotte però dico durano una vita normalmente una vita comunque anche sui le wii moto ho buttato anche batterie ricaricabili si andavano si non è che li piazzano tanto però hai provato con python per vedere quanto ti dava la carica no per giocare con la wii come smontare la serata quando ho perso la partita esatto ho trovato più progetti devo aver giocato devo aver afficato dentro qualche altra ascolta requisito minimo tra forato l'anno in mattina senza avere tutte una chiavetta scarichiamo il software su chiavetta computer spento facciamo avviare da chiavetta a chiavetta fine e si lavora solo sulla macchina senza per capire quanto come mette le mani su Windows allora tu a domanda rispondo abbiamo tre chiavette tutto open pagate 6,99 te le diamo 10 una resta a scuola una mezza a scuola una mezza resta a piena lunga se hai voglia di buttarli via chiavetta da 8 giga partizionata in 4 giga di sistema e 4 giga di dati quella lì proprio in maniera tale che se vuoi ficare la musica o vuoi installare viene fuori la Windows 4 la butti già lì è già partizionata apposta e la diamo via 10 vedete voi fate la domanda scusami WillDOS WillDOS funziona anche su Raspberry eventualmente o c'è l'idea che potrete presentarlo c'è una mezza idea ma allora WillDOS come sistema no perché è basato su però girando su Debian Raspberry ok guardate il vicepresidente già può essere che ci sia no no può essere è nel senso che girando su Debian che poi come si chiama il Debian opposto Raspbian ok probabilmente trovi il pacchettino punto deb di Python whiteboard e hai finito il gioco non hai WillDOS cioè tutto il sistema operativo hai quello che ti serve a far funzionare sull'ordine che faremo con Stefano uno me lo credo perché voglio provare se non c'è basta se non c'è il pacchettino basta ricompilarselo non scrivete a Infopiene lunga perché mi cazzo direi basta basta un attimo l'affaretto grazie a tutti